a tutti benvenuti a questa conferenza stampa buongiorno anche a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso i canali della web tv della camera eh io sono eh felice in qualche modo di essere strumento e tramite per questo tentativo di porre all'attenzione del legislatore ehm una proposta di legge la proposta di legge sul superamento della non imputabilità per gli autori di reato eh considerati non capaci di intendere eh e di volere per infermità mentale. Si tratta di una eh norma che intende completare in qualche modo eh un processo avviato da molti anni, da decenni, è una riflessione collettiva eh la l'intervento normativo del duemilaquattordici sugli sugli OPG, sulla chiusura degli OPG, non aveva toccato la questione eh della non imputabilità e quindi di questa legislazione speciale e a nostro avviso è un tentativo questo che rappresenta un tentativo di far fare al nostro paese un passo di civiltà e di avere finalmente un codice penale anche su questi aspetti che sia costituzionalmente fondato e che sia anche rispettoso delle convenzioni internazionali. Prima di lasciare eh la parola a Stefano Cecconi e poi a Franco Corleone e agli altri che interverranno voglio solo ricordare da un punto di vista parlamentare che questo è solo l'inizio di questo percorso, la proposta di legge è stata depositata, ora è stata assegnata alle commissioni competenti, si tratterà ora di coinvolgere il numero più ampio possibile di deputati ehm su questo. Ieri ho avuto anche un un primo contatto positivo con Gennaro Migliore già sottosegretario alla giustizia che è non so se riuscirà a raggiungerci qui oggi ma che sono in corso delle votazioni ma che è favorevole ovviamente al testo e quindi aggiungerà eh la sua firma e poi ottenere eh quanto più possibile una spinta politica perché si abbia una calendarizzazione. In questo momento e chiudo davvero c'è una riflessione che si sta aprendo su riforme che toccano a vario titolo e in vario modo il mondo della giustizia sia sotto il profilo del codice penale che sotto il profilo ordinamentale noi siamo convinti che questo sia un aspetto che non debba restare eh diciamo essere tralasciato ed essere trascurato. La parola a Stefano Cecconi. Grazie, grazie. Grazie davvero per questa importante iniziativa che l'onore Maggi ha deciso di assumere eh in esito a una lunga campagna di iniziativa che il cartello di associazioni che ha promosso questo manifesto e quindi questa proposta di disegno di legge ha avviato già con la battaglia per la chiusura dei manicomi giudiziari durata alcuni anni e che si è conclusa vittoriosamente in termini di diritti sociali e civili affermati grazie anche al lavoro importantissimo del commissario Corleone Franco Corleone che ha seguito l'ultima parte della difficilissima e complicatissima vicenda per la chiusura degli OPG degli ospedali psichiatri giudiziari è una battaglia nella quale siamo riusciti ad affermare dicevo un principio di civiltà e diritti sociali e civili e cioè il fatto che le persone che avevano commesso un reato eppure essendo malate malate di mente non dovessero finire in un circuito manicomiale nel circuito parallelo che ha caratterizzato dalla costituzione legislativa del codice Rocco il destino dei malati di mente dei malati di mente autori di reato il destino dei malati di mente invece non autori di reato si era in qualche modo era stato stravolto cambiato in positivo dalla legge basaria che aveva affermato la rottura del doppio binario del doppio destino uno per i sani uno per i matti per i matti c'è il manicomio per i sani vediamo che cosa c'è quel destino parallelo per i malati di mente è stato abbattuto travolto cambiato con la legge basaglia che ha permesso finalmente ad ogni cittadino ad ogni persona del nostro paese di ricevere cure attività assistenza nel territorio dove vive a casa propria possibilmente in condizioni di rispetto della dignità e dei diritti restava in piedi però dopo la chiusura dei manicomi manicomio giudiziario l'estremo baluardo della logica manicomiale ancora una volta luogo chiuso in cui spedire letteralmente rinchiudere anzi si dice ancora oggi internare i folli rei cioè i malati di mente autori di reato per loro siamo intervenuti come dicevo con una straordinaria battaglia una riforma l'agio 81 del 2014 protagonista tra gli altri eh merina di rindin che è qui in collegamento con noi che poi interverrà e pietro pellegrini del coordinamento delle rems dei dipartimenti di salute mentale ma dicevo quella battaglia ha portato da una parte alla chiusura degli opg quindi alla fine del dell'internamento in luoghi separati dall'altra l'avvio di un processo complicato un processo che prevede per le persone autori di reato incapaci di intendere di volere due possibilità in mano alla magistratura e servizi di salute mentale la possibilità prevalente di essere destinata a percorsi di cura nel territorio con i dipartimenti di salute mentale che fronteggiano la loro situazione con progetti individuali di assistenza secondo la logica e l'intuizione geniale della riforma basaglia è la vita quotidiana e la normalità che può restituire speranza di guarigione e quindi anche tra virgolette sicurezza e controllo sociale meno ricadute meno recidive più possibilità di restare nel circuito delle relazioni umane affettiva lavorativa e quindi più distante possibile da tutto quello che determini invece sofferenza devianza e perfino in alcuni casi reati l'altra possibilità è costituita dalle rems dalle residenze per le misure di sicurezza ma che sono tuttavia molto meglio dei vecchi opg dei luoghi di detenzione esiste comunque ancora la misura di sicurezza detentiva destinata a un numero certo meno della metà di quelli che erano gli internati di qualche anno fa negli opg ma esistono ancora queste strutture con un'anomalia gravissima che è castiglione delle stiliere che da sola fa circa metà un centinaio e passa delle persone internate in queste strutture detentive a gestione prevalentemente esclusivamente sanitaria radicata nel territorio ma ripeto purtuttavia ancora strutture detentive e che troppo spesso la magistratura utilizza come luoghi di scarico invece che utilizzare il canale privilegiato del dipartimento di salute mentale che assiste e cura ogni persona del territorio spesso viene troppo facilmente magari con misure provvisorie destinata a una rems chi potrebbe dovrebbe stare altrove questo ha comportato tra l'altro anche un problema di liste di attesa di persone che addirittura in carcere attendono di essere destinati alla rems quindi è una riforma complicata che però trova fondamento questa complessità questa difficoltà a realizzarsi trova fondamento anche nel fatto che è rimasto ed è questo ed è qui che interviene il disegno di legge è rimasto irrisolto il nodo cruciale del doppio binario e cioè il fatto che solo ai malati di mente solo ai malati di mente autori di reato viene destinato un binario speciale è il binario della non imputabilità che apre a queste varie possibilità che ho appena brevemente seppur brevemente descritto le cure nel territorio le rems e mantiene in una sorta di anomalia pre manicomiale pre riforma basaglia soltanto il malato di mente qui interviene con che abbiamo voluto per questo provare a chiudere il cerchio della riforma basaglia della riforma che ha chiuso gli opg andando a stroncare a tagliare la radice più profonda della logica alla base del manicomio che destina appunto i matti a binari paralleli speciali fuori dalla società secondo una logica appunto di esclusione di particolarità che altera lo stesso stato di diritto di un cittadino questo è il senso di questa operazione e credo che si sia coerente con la grande straordinaria battaglia che è ancora in corso sulla chiusura dei manicomi e per l'apertura al posto dei manicomi dei luoghi della vita e della cura e dell'inclusione sociale ma a che fare anche con l'esigenza di sicurezza di una comunità con l'esigenza di vita pacifica di coesione abbiamo bisogno di persone che vadano in giudizio non che siano sospese perché considerate appunto dei matti incapaci di intendere di volere no no vanno in giudizio assumono assistono e partecipano a un processo se giudicati colpevoli vengono destinati a una pena ma siccome hanno moltissimi casi problemi di bisogno di cura bisogno di assistenza bisogno di di salute mentale hanno pari diritto di poter esercitare questa esperienza di cura quindi di essere assistiti e curati in carcere se dovessero finire in carcere o prevalentemente come ormai l'esperienza si è insegnato con misure alternative alla detenzione che anche in questo caso hanno il doppio merito o il triplo merito il primo è quello di comunque sanzionare un comportamento illecito secondo la gravità in modo adeguato il secondo è assicurare in ogni caso le cure e la salute delle persone come sancisce la costituzione in terzo luogo fare in modo che questo avvenga nei luoghi nei modi che sono più efficaci a garantire cure sicurezza inclusione sociale questo penso sia interesse di tutti e del senso di quello che stiamo provando a fare con questo disegno di legge prego franco corleone è una importante scadenza questa e ringrazio riccardo magi di avere essersi caricato questa battaglia che può apparire difficile e impossibile ma che rappresenterebbe la conclusione di una vicenda che ha posto l'italia all'avanguardia nel mondo per quanto riguarda la cura l'intervento rispetto alla salute mentale e ai disturbi l'italia ha eliminato nel 78 le istituzioni manicomiali cosiddette civili non era stata toccata dalla legge 180 il bubone del manicomio giudiziario che aveva subito un abbellimento linguistico per cui era diventato ospedale psichiatrico giudiziario in realtà continuava a essere carcere e manicomio la direzione era di eh un direttore di carcere c'era la polizia penitenziaria c'erano le celle le sbarre era un carcere ammantato di ospedale in realtà era un manicomio era il massimo della istituzione totale i ricoverati non erano detenuti erano qualcosa di peggio erano chiamati e sono tuttora chiamati così internati che fa venire i brividi solo a pensare a questa questa parola con la legge del 81 che eh eh di pochi anni fa si è riusciti in questo miracolo del che io lo chiamo così una rivoluzione vera cioè la chiusura dei manicomi giudiziari sei manicomi giudiziari in Italia e è iniziata una sperimentazione buone pratiche nelle oltre trenta REMS diceva Stefano Cecconi che c'è questa anomalia di Castiglione delle Stiviere con centosessanta persone sui seicento ospitati nelle tre nelle altre trenta eh REMS addirittura inizieranno nelle prossime settimane lavori per decine e decine di milioni di euro per rifare i padiglioni e mantenere lì non una REMS secondo le regole venti posti eccetera ma continuare a avere centoventi posti questo è un problema che eh dovrebbe interessare eh molto la politica il Ministero della Salute le regioni perché è una ferita alla riforma che c'è la riforma che c'è eh ha dato buoni frutti complessivamente e però le difficoltà che esistono quando si fa una rivoluzione di questo genere invece che comportare sostegno ai dipartimenti di salute mentale per eh avere le REMS cioè le misure di sicurezza detentive come ultima razio in realtà sono usate abbondantemente e quindi sembra un paese impazzito può darsi che lo sia ma eh da questo punto di vista sembra un paese impazzito perché i magistrati prosciolgono per incapacità di intendere e volere un numero superiore del doppio rispetto a quando c'erano gli OPG questo comporta dei problemi eh per e il sistema regga perché il sistema delle REMS è basato su alcuni punti fondamentali la territorialità il numero chiuso per assicurare una possibilità di intervento terapeutico efficace se invece si adottasse eh l'apertura come in carcere avremmo il sovraffollamento anche nelle REMS e non funzionerebbero più come possibilità terapeutica il il eh limite temporale della durata della misura di sicurezza evitando il cosiddetto ergastolo bianco il rifiuto della contenzione meccanica su questi punti si è costruita un' esperienza e purtroppo non ci sono gli aiuti perché questa esperienza va davanti ma c'è invece la nostalgia del manicomio un rimpianto del manicomio e l'idea di tornare indietro e allora la società della ragione il coordinamento delle REMS l'osservatorio eh che in questi anni ha preso l'eredità di stop opg magistratura democratica e molte altre associazioni hanno deciso di riprendere una proposta che io avevo fatto per la prima volta trenta anni fa cioè quella di aggredire con una riforma radicale il codice Rocco per eliminare il doppio binario eliminare la non imputabilità il proscioglimento e le misure di sicurezza sulla base di una pretesa pericolosità sociale questo è lo schema iniziale abbiamo lavorato un anno prima in un seminario in montagna incarnia e e poi con altre riunioni e dopo un anno noi abbiamo consegnato a Riccardo Maggi un testo che eh molto approfondito che non risponde a tutte le possibili obiezioni noi non vogliamo mandare in galera nessuno anche sulla base della sentenza della corte costituzionale che ha equiparato danno fisico e danno mentale alla possibilità di misure alternative e quindi noi però riteniamo che la responsabilità è terapeutica e riteniamo che la partecipazione a un giudizio renda limpida la situazione e il e non elimini le contraddizioni fra cura e custodia ma eh intervenendo con lo stesso binario di tutti i cittadini noi eh garantiamo una soluzione più adeguata dall'altra certo eh prevediamo queste misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale che è la definizione che viene da le organizzazioni internazionali dell'ONU abbiamo eh costruito questo testo anche essendo confortati dalle riflessioni del comitato nazionale di bioetica del consiglio superiore della magistratura della corte costituzionale ho ricordato quindi un testo che fa proprio tutte le esperienze positive di questi anni e costruisce una ipotesi eh di riforma radicale ma non velleitaria ma praticabile possibile il ricordavo che eh in questi mesi si è discusso molto di queste vicende in relazione a un episodio di uccisione della moglie da parte di un anziano a Brescia e recentemente sulla discussione in Francia che è che è stata eh denunciata da Bernard Henry Lévy su una vicenda che ha visto una tragedia di una insegnante uccisa e che ha portato invece che al giudizio e alla condanna ha portato al approccioglimento quindi anche in Francia c'è una discussione su questo tema quindi io mi fermerei qui perché gli articoli ho ricordato i punti fondamentali sono diciotto articoli che modificano eh il codice penale articolo 88 e eh e 89 e che però poi intervengono su eh l'ordinamento penitenziario soprattutto volendo unificare le posizioni dei folli rei e dei rei folli rafforzando la presenza del dipartimento di salute mentale in carcere senza distinzione soprattutto dopo questo anno di pandemia che ha peggiorato le condizioni di isolamento di autoreferenzialità nelle carceri italiane con il rischio che anche le condizioni psicofisiche delle persone in carcere siano insopportabili e difficilmente gestibili si parla molto di riforma della giustizia in questi giorni noi contiamo che la ministra Cartabia che ha fatto parte della corte costituzionale che si è occupata di questi temi abbia una particolare sensibilità per aggredire questo nodo del superamento del codice Rocco in un punto così delicato dopo novant'anni dalla vigenza del codice che è stato il perno del regime fascista e dello stato etico adesso il collegamento non so se è pronto e se ci sente se ci ascolta Nerina di Rindin benissimo a te la parola allora grazie solo poche parole intanto vi ringrazio per questa presentazione voglio ringraziare Riccardo Maggi per l'impegno che si sta assumendo presentando questa proposta a far fare un passo avanti fondamentale al nostro paese nella cultura e nella normativa in primo luogo che riguarda le persone con problemi di salute mentale ringrazio anche tutti coloro che in passato hanno lavorato intensamente hanno contribuito a predisporre un testo che è sicuramente completo e non impossibile da poter essere affrontato quindi questa presentazione mi riempie di un pochino di ottimismo perché noi sappiamo quanto sia difficile la prima questione che voglio affrontare insieme a voi e l'ha detto mi pare l'avete detto tutti è una battaglia difficile è possibile che sia difficile lo sappiamo anzi credo che tutti noi ci dobbiamo impegnare a fare in modo che ci siano molti firmatari di questa io proverò a fare quello che mi è possibile fare secondo sarà difficile perché io non potrò mai dimenticare le difficoltà che abbiamo avuto in aula del senato quando discutavamo la legge 81 quella che poi è diventata legge 81 con affermazioni che richiamavano tutto il la carrellata di luoghi comuni regressivi securitari e non fondati neanche dal punto di vista statistico oltre che dalle evidenze scientifiche in nessun modo quindi non sarà facile speriamo però che possa essere preso in considerazione rapidamente e possa incominciare ad essere discusso e dobbiamo attrezzarci per affrontare un percorso piuttosto complicato non impossibile forse anzi voglio dire che non sarà sicuramente impossibile ma che sicuramente dovrà essere monitorato da parte di tutti io ringrazio in particolare perché questa proposta di legge si inserisce in un momento in cui sempre più perlomeno a me è capitato facendo parte di qualche gruppo di lavoro su questi temi sempre più percepisco l'arretramento culturale su questi temi molto diffuso nel paese mi è difficile dire se è più grave di quello che era in passato oppure se è simile a quello del passato certamente insomma la scarsa qualità tecnica e la scarsa preparazione della politica sta creando molti più problemi di quanto in passato non ci si poteva immaginare per cui io penso che ci sia una cultura manicomiale che rischia di essere diffusa a certi livelli più di quanto non fosse in passato e allora non possiamo restare silenziosi dobbiamo far valere la consapevolezza che invece in molti professionisti e in parte del paese buona parte del paese vorrei poter dire questi temi sono sentiti sono valutati con grande attenzione e che forse in questo momento abbiamo anche la fortuna di avere un ministro della giustizia particolarmente sensibile a questi aspetti proprio per il ruolo che ha svolto in passato e allora credo che dobbiamo davvero cogliere l'occasione per parlare diffusamente scrivere dibattere affinché non si abbia paura di affrontare un tema comunque delicato e difficile e poi questa è anche l'occasione ma nel disegno di legge ben indicato per dire che la debolezza che i dipartimenti di salute mentale storicamente hanno avuto e purtroppo negli ultimi 10 15 anni hanno visto peggiorare deve essere superata e questa è un'altra battaglia che dobbiamo fare perché con le risorse che si metteranno a disposizione attraverso il piano nazionale per la ripresa e la resistenza anche i dipartimenti di salute mentale devono trovare la possibilità di migliorare e migliorare nella qualità dei servizi che danno nella dotazione di personale nell'accoglienza che sono capaci di dare e quindi essere elementi che garantiscono anche rispetto al principio che questa legge sostiene che garantiscono alla pubblica amministrazione di poter dire a testa alta che non abbiamo soltanto validato dei principi ma siamo anche capaci di metterle in atto. Il processo sarà lungo ma cerchiamo di fare in modo che si possano aggregare sempre più elementi di consenso e di chiarezza e di contrastare i luoghi comuni che purtroppo sono ampiamente diffusi. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie Nerina Di Rindin. Prima di dare la parola a Pietro Pellegrini, Franco Corleone voleva aggiungere qualcosa. Volevo semplicemente dire che questo è un progetto che è stato volevo solo dire con piacere che questo proposta di legge è stata coordinata da un gruppo tutto al femminile da Giulia Melani, Katia Ponetti e Grazia Zuffa che hanno portato a questa conclusione superando anche delle necessità che c'erano di non offrire spazi per contestazioni a prioristiche e quindi sono molto soddisfatto e volevo dire che questo che oggi non è presente Riccardo De Vito il presidente di magistratura democratica perché impegnato in udienza è un magistrato di sorveglianza e quindi però mi ha pregato di dire che è comunque presente e seguirà questa conferenza stampa sarà diffusa eh presso molti siti eh abbiamo raccolto eh centinaia di adesioni a un appello di sostegno a questa proposta di eh operatori, psichiatri, avvocati, un mondo vasto e sul sito della società della ragione è possibile eh trovare eh il testo e sostenere eh quello che dovremmo inventarci è una campagna perché eh in Parlamento si senta che c'è eh volontà di eh non andare a una deriva eh che riporti al centro la cultura custodialistica. Pietro Pellegrini Sì sì prego. Bene grazie anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'onorevole Riccardo Maggi per avere assunto questa iniziativa e devo dire con soddisfazione che oggi si può davvero pensare ad un interiore passo avanti di quella che Franco Corleone prima ha definito una rivoluzione centiva. Una rivoluzione attuata in pochi anni dove si è creato con un concorso fattivo interistituzionale eh con magistratura eh l'avvocatura con in molti casi anche di enti locali una sistema di cura e di sicurezza di comunità. È un passaggio fondamentale che eh credo vada valorizzato. Oggi abbiamo molte due persone seguite nel territorio sette dieci volte quelle che sono nelle renze e quindi oggi stiamo dando concreta realizzazione a dei principi e la legge non è per i malati mentali. La legge è per tutti i cittadini perché oggi si è creata un altro punto molto significativo e cioè si è determinata la separazione fra la il provvedimento giudiziario e l'obbligo di cura. La cura anche per le persone che hanno commesso reato che siano ristrette nelle carceri o siano nelle renze o nel territorio si basa sull'accoglienza non giudicante, sul consenso, la volontarietà, la responsabilità e la legge di riferimento per tutti è la legge centotale. Allora questo grande passo avanti non può essere annullato perché ci sono ancora situazioni da sistemare. Sappiamo bene qual è la situazione all'interno delle carceri, sappiamo bene qual è la situazione dell'articolazione di tutela salute mentale, ma si tratta di andare oltre, di costruire soluzioni, di non fare attendere nessuno per un percorso di cura, ma di vedere nella continuità delle collocazioni delle persone, del loro status giuridico, di garantire sempre in ogni ambito il diritto alla salute. E questo è un punto molto importante che la legge che si propone di approvare va a codificare superando un codice che ha come sappiamo quasi 90 o più di 90 anni e che fa riferimento per quanto attiene la psichiatria alla legge 36 del 1904 che iniziava con debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone pericolose a sé e agli altri. La legge 180 del 1978 inizia così, gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. È questo un principio cardine che noi oggi dobbiamo realizzare nella pratica sostenendo il lavoro dei Dipartimenti di Salute Mentale, ma sostenendo l'intero sistema di welfare e di tutte le articolazioni di comunità. E così si produce sicurezza e benessere anche per affrontare i temi che sono oggi all'attenzione. Io penso ad esempio ai reati gravi che ci sono, i femminicidi, la cui entità tende a restare piuttosto costante dall'inizio degli anni 2000 a fronte invece di una riduzione a quasi della metà dei reati di omicidio. Allora il tema di come affrontiamo oggi un malessere sociale, una situazione di disturbo non può prescindere dall'affermazione della responsabilità e la responsabilità rimane il punto chiave, una responsabilità supportata, una responsabilità che debba essere sempre, diciamo, collocata in un contesto relazionale, ma che si realizza attraverso appunto un intervento che porta la persona a lavorare su di sé perché il reato, guardate, è comune in ambito psichiatrico, il reato è molto presente nella persona a condizione mentale, è molto presente e oggi e anzi tutto il lavoro fatto ci ha consentito di sviluppare anche tutta una serie di metodologie di intervento che si uniscono anche al meglio della giustizia. Penso alla giustizia riparativa, penso alla riconciliazione, penso alle possibilità che vengono dall'incontro di persone che hanno a volte commesso anche reati molto gravi con i contesti, con le famiglie. Quindi è una legge che a mio parere davvero colloca il nostro Paese in una situazione di avanguardia e ci vuole tutto il coraggio delle cose nuove perché a mio parere questo, a nostro parere, credo di portare anche tutta l'esperienza di tanti colleghi che si sono impegnati in questi anni e ai quali va un grande ringraziamento perché senza gli operatori della salute mentale questa riforma non avrebbe avuto la realizzazione che ha avuto e insieme agli altri vanno affrontati i problemi che rimangono aperti. Le debolezze, i limiti che sono stati posti, che Franco Corleone citava, il numero chiuso ad esempio, sono delle affermazioni avvenute nelle pratiche che a mio parere dovrebbero trovare ampia diffusione. Le limiti possono diventare i nostri punti di forza, quindi le cose difficili e coraggiose è il momento di metterle in atto. Grazie ancora. Grazie davvero a Pietro Pellegrini, la parola all'Avvocato Michele Passione. Grazie, innanzitutto voglio ringraziare molto con un ringraziamento che non è affatto di maniera Riccardo Maggi perché la disponibilità a stare accanto a questa importante proposta non è usuale, non è da tutti, per lui lo è perché lo conosciamo, ci auguriamo che venga presto accompagnato da altri, che raccolgano e comprendano che questa non è una provocazione ma è una cosa che si può fare. Io faccio l'Avvocato, gli Avvocati parlano notoriamente per ultimi e quindi non sto a ripetere le cose che sono state dette, sono fra i firmatari di questa proposta e comunque non posso solo che ringraziare gli amici che l'hanno condivisa e che hanno lavorato perché andasse in porto o almeno cominciasse la sua navigazione. Vorrei invece occuparmi di una cosa che accadrà fra qualche giorno, io ho una sorta di perversione per la Costituzione, ho avuto qualche occasione di frequentazione con la Corte Costituzionale e dunque mi riferisco all'incidente di costituzionalità che verrà affrontato il 26 maggio prossimo e per farlo riprendo solo due cose che ha detto Franco Corleone prima, correggendole in parte. La prima è che le misure, non sono così convinte, lo dico da un punto di vista della mia esperienza pratica, molto mi occupo di questi temi anche da un punto di vista pratico, che i magistrati assolvano molto più di prima per difetto di incapacità in tende di volere. I dati ci dicono che il 41%, grosso modo a spanne, delle misure di sicurezza provvisorie soprattutto, delle misure di sicurezza sono di natura provvisoria e quindi vengono applicate prima ancora del giudizio di non colpevolezza per difetto di imputabilità e questo è il vero problema perché è un problema, questo sì, derivante dal fatto che i magistrati della cognizione che non hanno specializzazione sul punto considerano le REMS un'altra cosa e certamente in parte lo sono rispetto agli OPG e dunque si può mandare qualcuno in quei luoghi. La seconda cosa è che, e questo mi conforta anche in relazione a quello che dirò di qui un attimo sulla Corte Costituzionale, con la sentenza citata da Franco 99 del 2019, non credo di sbagliare stensore Marta Cartabia, quella che ha equiparato la grave infermità psichica, quella fisica, così consentendo finalmente la detenzione domiciliare in deroga alle persone però con incapacità sopravvenuta, quindi non ritenute incapaci a intendere di volere, ritenute pienamente capaci e poi andate incontro a problemi di natura psichica, in quella sentenza non si dà il via alle misure alternative to court ma alla sola detenzione domiciliare, quella sentenza contiene un monito naturalmente inascoltato da parte del Parlamento, speriamo che Riccardo Maggi sappia farsi tramite anche di questo, ed è un monito forte, il giudice costituzionale ritiene che quella soluzione sia praticabile ma invita il Parlamento a implementare il novero delle misure applicabili a quei soggetti e noi diciamo oggi, lo scriviamo nel 47 sepses, a tutti i soggetti, non solo a quelli con incapacità sopravvenuta ma a quelli di cui vogliamo venga affermata la penale responsabilità per curarli, non per incatenarli a un destino penitenziario. Quel testo che noi abbiamo scritto riprende i lavori della commissione ministeriale della quale avevo fatto parte sulle misure di sicurezza e noi abbiamo scritto un 47 sepses, per la verità un po' più timido, siamo stati più coraggiosi qua ma in Carnia si lavora meglio che al Ministero della Giustizia e l'abbiamo scritto, lì eravamo mostretti dalla delega, qui noi immaginiamo un 47 sepses senza limiti d'Italia e senza limiti per titoli di reato. Due parole sulla sentenza che dovrà scrivere la Corte il 26 maggio. Il giudice remittente evidentemente preoccupato della contestazione mossa a un soggetto che ha una contestazione contravenzionale che dunque non consente misure di sicurezza e che risponde del delitto di 336 perché al sindaco ha detto te meno perché siete da una pizza, mi perdonerà Riccardo Maggi, io non sono romano, il primario dove stavo mi ha detto che c'è ragione e gli lanciava contro un cartoccio di vino senza colpirlo. Questo è il grave profilo di pericolosità di questo ragazzo. Il quale non riceve assistenza in REMS perché le REMS sono piene e il remittente si lamenta del fatto che il Ministero della Giustizia per il tramite del Dipartimento non possa uno violare il criterio di territorialità che corrisponde a evidenti esigenze di prese in carico territoriale e vorrei dire terapeutica se la famiglia è uno dei principali ancoraggi per i detenuti non è che poi sul territorio può essere il contrario. Due, che non si possa superare il limite previsto per legge e tre, lamenta una spogliazione del Ministro della Giustizia perché ritiene che le misure di sicurezza che certamente anche da un punto di vista convenzionale sono equiparate alle pene, ce lo dice la Corte Europea dei detti dell'uomo in tanti arresti giurisprudenziali, M contro Germania e via andare, questo determinerebbe una sottrazione in debita del Ministro della Giustizia. Parla di delegificazione. Katia Poneti, che è una delle straordinarie donne che hanno lavorato a questo progetto, ha scritto qualche giorno fa un articolo molto lungo e molto complesso, sono 45 pagine dove si occupa anche di confutare l'assunto del remittente che, dimenticavo, non è competente perché il Pubblico Ministero ha già esercitato l'azione penale, lui solleva questioni di legittimità costituzionale, non essendo deputato a farlo, a quel punto il Tribunale non è più il GIP, ma questa è questione che forse la Corte potrà superare dicendo che è inammissibile la questione, come è inammissibile perché non evoca un parametro che ritiene violato, infatto, ma poi non lo scrive, il 117,2 ritiene che sia materia che non può essere sottratta al Ministero della Giustizia. Però quel parametro non lo utilizza. Allora, al di là dei parametri sbagliati, al di là dell'incompetenza a sollevare la questione, resta la provocazione. L'attacco alla legge 81 già approvato dal Tribunale di Sorveglianza di Messina nel 2016 e superato con inammissibilità della Corte Costituzionale viene riportato perché sostanzialmente si vorrebbe riportare a Boriginem un sistema che si regge oggi su gambe infinitamente più solide, democratiche e terapeutiche, ma che noi vogliamo superare con la proposta di legge che abbiamo scritto. E lo vogliamo fare, ed è l'ultima cosa che vorrei dire, e anche su questo l'esperienza del pratico, non certo la confutazione teorica rispetto a quello che ha detto Franco prima, non solo le misure di sicurezza che li evitano e fanno impazzire il sistema e fanno venire cattivi pensieri al GIP di Tivoli, sono quelle provvisorie. Ma non è neanche così vero che si assolve a go go, si assolve, perché purtroppo di fronte a certi gravi fatti di reato, quando il disturbo psichiatrico è sicuro, si afferma cedendo al popolismo e al pan penalismo una penale responsabilità che non è quella che vogliamo noi. È una affermazione di penale responsabilità perché lì parla la pancia e perché bisogna condannare quel soggetto, lo dico a ragion veduta perché mi sono capitati casi così, dopodiché una volta condannato ci si dimentica di quei problemi che hanno fatto discutere magari per mesi e mesi perite e consulenti arrivando a conclusioni di formi e poi affermando la penale responsabilità, ci si dimentica, magari si dispone l'ergastolo e è finita lì e nessuno si curerà di quella persona. Noi vogliamo affermare la penale responsabilità di una persona quando c'è e quando non c'è ovviamente deve essere assolta nel merito, ovviamente, ma una volta affermata la penale responsabilità vogliamo che quella persona sia innanzitutto curata. Per questo abbiamo scritto che è prevista una diminuente di pena quando si afferma la penale responsabilità e poi su quella pena diminuita perché non siamo come quelli che aboliscono la povertà con un tratto di penna, né la follia con un tratto di penna. Purtroppo ci sono persone che stanno male in questo Paese e non solo in questo Paese. Noi ce ne vogliamo occupare. La Corte Costituzionale dovrà fare il suo mestiere e lo farà il 26 maggio perché questa questione tra le altre soffre del fatto che il giudice non indica un verso alla Corte, non si sa cosa vuole questo giudice, non si capisce qual è l'intervento manipolativo che dovrebbe determinare la Corte ad aderire alla sua prospettazione. Quindi è inammissibile sotto tanti profili, ma è credo anche inammissibile che l'attacco venga portato cercando di evidentemente porre una legge di civiltà di fronte al giudice delle leggi con una censura che è assolutamente pretestuosa. Quindi confidando nel fatto che la Corte sappia fare buon governo di questa questione è che il Parlamento di questo Paese sappia raccogliere uno sforzo di civiltà che abbiamo provato a fare, ci mettiamo in viaggio, in cammino e come si dice, buon courage e buona fortuna. Sì, grazie. Allora mi sembra se non vogliamo aggiungere altro e anche tra i collegati abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione. Sono state ampiamente, come dire, illustrate le fondamenta di questa proposta di legge. Adesso si tratta di portare avanti due lavori paralleli che dovrebbero essere convergenti. Quello parlamentare allargando il più possibile il numero dei sostenitori di questa proposta di legge e dei firmatari, ma anche quello a livello di aggregazione, di mobilitazione con una campagna che inevitabilmente è l'unico strumento che abbiamo per poi mettere pressione e e e favorire anche il lavoro a livello parlamentare. Eh il video di questa mattina ah prego prego no il video di questa mattina io credo che sia uno strumento utile anche a questa campagna che dovrà essere e che vorremmo lanciare sarà disponibile ancora per eh alcune settimane credo sul sito della camera e in ogni caso poi lo eh lo scaricheremo e lo metteremo a disposizione di tutti eh di tutti quanti i canali delle delle organizzazioni e delle associazioni che sostengono questa iniziativa. Prego. Perfetto grazie davvero ancora non aveva le magi solo per ricordare che il venticinque ventisei giugno il ministero della salute convoca la conferenza nazionale per la salute mentale e lì eh è l'occasione un'occasione assolutamente preziosissima per discutere di questo tema perché fa parte dei grandi temi che la conferenza dovrà discutere e quindi per valutare anche il decreto il disegno di legge due nove tre nove e alla camera dei deputati è stato depositato ed è in discussione quindi la potrebbe essere perfino uno slogan due nove tre nove diritti per tutti grazie ancora Pietro Pellegrini in particolare per la disponibilità. Grazie davvero grazie a tutti buon lavoro.